ABF Eduf Podcast. Parole di inclusione. Contro la violenza economica. Tu non sei sola. Iniziativa promossa da Associazione Bancaria Italiana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Collana di podcast. Parole di inclusione. Contro la violenza economica. Tu non sei sola. Violenza economica. Cosa è e come si manifesta? Limitare o negare l'accesso ai propri risparmi o alle finanze familiari. Ostacolare lo sviluppo o l'autonomia lavorativa. Sono queste alcune forme di violenza economica. Questo tipo di violenza può manifestarsi sia in contesti domestici che al di fuori e si concretizza attraverso forme di controllo finanziario, coinvolgendo prevalentemente le donne. Il mondo bancario presta molta attenzione a questo fenomeno proprio per contribuire ad arginarlo, anche attraverso iniziative di educazione finanziaria mirate. In questa cornice, l'ABI, insieme alla Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio e al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con le banche e le associazioni dei consumatori, ha realizzato una guida in materia. La guida, disponibile sui siti dell'ABI www.abi.it e della Feduf www.feduf.it, offre informazioni semplici, chiare e pratiche per contribuire a identificare e prevenire questo tipo di fenomeno, approfondendo i suoi vari aspetti, cosa è, come si manifesta, come prevenirla e come contrastarla. Grazie a tutti.